Terra mia, cultura, cultura. È lo slogan scelto quest'anno da Libera per la 27esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Obiettivo? Prendersi cura della propria comunità locale e reinterpretare il suo essere cittadini globale, a partire dall'attenzione al contesto nel quale si vive, alla propria quotidianità. La giornata ha visto Napoli come sede principale della manifestazione organizzata da Libera e Avviso Pubblico, accompagnata da altre centinaia di luoghi in Italia e nel mondo. Il presidio di Libera Foggia, Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone, in collaborazione con la biblioteca La Magna Capitana, ha promosso un incontro con la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie presso l'auditorio della biblioteca. Riccardo Fenuta, prima la lettura dei nomi delle vittime di mafia, poi il collegamento con Napoli, insieme a una giornata che ogni anno vive di sensazioni e emozioni diverse. Assolutamente, questa è la 27esima edizione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Come ogni anno leggeremo tutti oltre i mille nomi che sono contenuti in questo elenco, che noi vorremmo si arrestasse, non vorremmo aggiungere altri nomi come purtroppo accade da un po' di anni a questa parte. E' una giornata nel quale non soltanto noi ricordiamo le vittime innocenti delle mafie, ma rinnoviamo il nostro impegno, affinché potremo liberare i nostri territori dalla presenza mafiosa, dalla violenza mafiosa e quindi costruire un nuovo futuro, un nuovo percorso condiviso, virtuoso per la nostra città e per il nostro paese. Questa è una terra che ha a che fare da vicino con questo fenomeno, 33 vittime di mafia. A che punto siamo nella lotta alla criminalità? Nella lotta alla criminalità siamo, credo, a buon punto, nel senso che le istituzioni sono presenti, ci sono state tantissime operazioni giudiziarie nel corso degli ultimi anni e soprattutto c'è anche un'attenzione mediatica importante su questo fenomeno ultimamente. Anche nella narrazione c'è un racconto che ha finalmente riconosciuto anche l'autonomia e soprattutto ha riconosciuto le mafie del territorio in quella che è la loro reale violenza, in quella che è la loro reale pericolosità e portata. E quindi si sono attivate quegli anticorpi, quelle attività virtuose di contrasto alla criminalità. E poi naturalmente c'è il mondo sociale di cui forse troppo spesso si parla poco in realtà in quanto ci sono tantissime realtà, tantissime associazioni in questo territorio che non è soltanto violenza come molto spesso viene raccontato, ma è fatto anche di piccole realtà che giorno dopo giorno stanno costruendo una rete di contrasto vero e vivo appunto al fenomeno mafioso. Oggi tante manifestazioni in città, anche da parte di diverse scuole, insomma c'è un risveglio anche della coscienza civica? Quello c'è sempre stato, nel senso che in questi ultimi anni che tra l'altro a causa della pandemia ci hanno costretto anche a rivedere un po' la manifestazione. Abbiamo appunto, registriamo iniziative in parrocchie, scuole, piazze, anche gruppi di cittadini che volontariamente si riuniscono per leggere questo elenco delle vittime innocenti delle mafie. Quindi sì, c'è questo risveglio in realtà, non lo chiamere risveglio, appunto rinnoviamo ogni anno questa promessa.